Non ha avuto alcun timore di mettersi in prima fila tra la folla di fan impazzite, tutte giovanissime, e aspettare con accanto la figlia undicenne, Agnese, l'arrivo sul pink carpet del Roma Fiction Fest 2013 di Ruggero Pasquarelli, divo della serie tv più amata dalle ragazze di tutto il mondo, Violetta. Milena Miconi stavolta non ha fatto passerella davanti ai Flash, ma la mamma premurosa, quella che accontenta la pargola emozionata per l'idolo di turno. La figlia più piccola, nata nel luglio 2009, Agnese, l'ha lasciata a casa. Il target del pubblico del telefilm Cult è assolutamente quello di Sofia, impossibile tenerla a casa.